Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione qua su Telecosta Smeralda. Allora in questi giorni a Caorle appuntamento importante per i comuni italiani che aderiscono al G20 Spiagge. L'obiettivo è appunto quello di tracciare il futuro del turismo balneare. Vediamo. La stagione estiva 2024 si preannuncia da record. Le principali località balneari italiane si confronteranno a Caorle per delineare le strategie per un futuro sostenibile di qualità. Il G20 Spiagge, la rete che riunisce 20 comuni italiani con oltre un milione di presenze turistiche annue, si terrà dalla 17 al 19 aprile. Sindaci, dirigenti, esperti e associazioni di categoria si confronteranno su temi chiave come sviluppo sostenibile, come coniugare la crescita del turismo con la tutela dell'ambiente e del territorio, innovazione, quali tecnologie e servizi possono migliorare l'esperienza dei turisti e la qualità del lavoro e la capacità di sviluppo economico, come creare valore aggiunto per le comunità locali e le imprese del settore turistico. Al centro del dibattito la proposta di status di comunità marina, un riconoscimento che, secondo i sindaci di G20 Spiagge, permetterebbe di accedere a risorse e strumenti specifici per la gestione delle località balneari. Continua l'attività di confronto col Parlamento affinché si possa addivenire alla proposta di legge per riconoscere lo status di comunità marine. Quindi riconoscere questa eccezionalità che riguarda tanti comuni, tra i quali ovviamente a Zachena, che hanno delle presenze fisse nel territorio limitate, circa 14 mila abitanti a Zachena, ma poi durante la stagione estiva ospitano un milione e 600 mila presenze. Il 16 di aprile salemo a Caorle e lì vedremo un pochino quelle che sono le prospettive e quello che è lo stato dell'arte. I 20 comuni di G20 Spiagge presenteranno progetti innovativi e applicabili per l'intera costa italiana. Dialogo e collaborazione sono il valore aggiunto di un network unico nel panorama turistico nazionale. L'obiettivo è chiaro, costruire un futuro migliore per le località balneari italiane, nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali, per un turismo di qualità che offra benefici a tutti. A proposito di spiagge, Cala Luna nel bellissimo Golfo di Orosè si blinda per l'estate. Numero chiuso, l'hanno deciso i sindaci. Vediamo. Cala Luna dice stop alla Prodo Selvaggio. La spiaggia del Golfo di Orosè, considerata una delle più belle del Mediterraneo, sarà al numero chiuso dalla prossima estate, probabilmente già da giugno. Una scelta che nasce dall'accordo tra Dorgali e Baunei, comuni che entrambi accampano diritti su quella lingua di sabbia di 800 metri e che già in passato ha diviso le due amministrazioni che avevano fatto slittare di un anno la decisione. Ora però c'è l'intesa e soprattutto c'è il vincolo che farà scattare gli ingressi programmati per scongiurare l'assalto, in particolare nei mesi estivi, di migliaia di turisti italiani e stranieri. Un tavolo tecnico, primo atto di quest'accordo per contenere gli arrivi sull'arenile, si è già riunito con gli operatori turistici del Golfo di Orosè, Capitaneria di Porto, Forestale, Questura, Prefettura di Nuore e Confcommercio. La priorità adesso, anche perché si è arrivati a ridosso della stagione e capire come procedere con la gestione condivisa dei divieti, si è così cominciato a parlare di ticket ecologico, vigilanza e turnazione degli sbarchi per l'arrivo via mare. L'obiettivo è duplice, preservare l'ambiente e la sicurezza dei bagnanti e tutelare le imprese del trasporto marittimo che si occupano dei turisti. Il tetto massimo potrebbero essere le mille presenze, numero accettabile di ingressi quotidiani, in linea con analoghe esperienze, di ingressi contingentati come ad esempio Cala Mariolu, dove possono accedere al massimo 700 bagnanti contemporaneamente, oppure 300 a Cala Birriola e Cala dei Gabbiani e non più di 250 a Cala Golorizè, un cambio di passo per preservare la bellezza e la ricchezza dei luoghi che trova concorde anche il neoassessore regionale del turismo Franco Cucureddu. Io credo che in alcuni casi particolari, certo non possiamo pensare a una Sardegna chiusa a chiave con i permessi con gli usceri all'ingresso, ma in alcuni siti particolarmente delicati, penso alla Pelosa di Stintino piuttosto che all'Imposto o a Cala Brandinchi, come è successo, sia doveroso farlo se vogliamo preservare quel bene e se vogliamo che anche tra qualche generazione quelle spiagge esistano ancora. E' appropriato dell'Ogliastro, una delle cinque blue zone al mondo, stiamo parlando di longevità, cerchiamo di capire nel prossimo servizio quanto questo possa diventare, possa essere sfruttato anche come opportunità in chiave di attrattività turistica. Nei giorni scorsi alla manifatturata Bacchi si è parlato di longevità e turismo, binomio divenuto negli ultimi tempi di grandi interesse per chi è chiamato a scelte strategiche per la regione. Ad organizzare la Tre Giorni o gli Astra eventi, da qualche anno ha promosso studi e incontri nei territori dei centenari. L'evento alla manifattura Tabacchi portava un titolo emblematico, Cent'anni insieme, ed è stato strutturato proponendo al pubblico una serie di talk, workshop e cooking show per far comprendere quanto il tema della longevità sia funzionale per trasmettere l'immagine di un'isola dove si vive bene e in maniera salubre, un luogo in sostanza dove trascorrere le vacanze all'insegna del buon vivere. Ed è stato questo il tema del primo incontro in calendario, come trasformare la longevità in un attrattore turistico, a cui hanno preso parte alcuni storici produttori dell'isola capaci di trasmettere l'immagine di una terra ricca di tradizioni, ma anche capace di innovarsi. Tra i protagonisti è Giuseppe Melis, studioso che da tempo si occupa del marketing turistico all'Università degli Studi di Cagliari. Cercare di richiamare flussi turistici attraverso le immagini della longevità e del buon vivere va bene, ma no a operazioni folcloristiche. Questo il monito. Evitare di folclorizzare il fenomeno, nel senso che la longevità è il risultato di un modo di essere, di un modo di vivere, di un modo di fare comunità, di riscoprire quei valori che in qualche modo hanno dato luogo a questo effetto. Quindi, quel che bisogna fare è incentivare quelle che sono le cause che favoriscono questo risultato, il che significa modi di produrre, modi di consumare. E poi, quando tu hai questo corpo di elementi, allora lo devi comunicare, lo devi saper raccontare senza infingimenti, cioè senza aggiungere sovrastrutture che poi il viaggiatore coglierebbe. Non bisogna costruire niente di artefatto, secondo il professor Melis. Basta saper comunicare in maniera efficace ciò che già abbiamo. Innovare nella tradizione vuol dire non dimenticarci del passato e cercare di capire che cosa la modernità, le tecnologie ci possono mettere a disposizione per coniugare questi due elementi. La pandemia ha modificato le motivazioni di viaggio, nel senso che prima, per esempio, la sicurezza che c'è è sempre stata, ma oggi è diventato un elemento prioritario, per cui il viaggio lento, il mangiare lento, il riscoprire la lentezza come fattore di benessere individuale e sociale, anche il distanziamento bisogna proporlo come un elemento positivo. E su basi di critiche documentate poggiano anche le fondamenta della Scuola Civica di Storia di Cagliari. Vediamo di cosa si tratta. Ancora qualche piccolo dettaglio è prendere a forma la Scuola Civica di Storia, che avrà come compito fondamentale quello di far conoscere le vicissitudini e la storia della città di Cagliari. La serie del progetto culturale dovrebbe essere, meglio usare il condizionale, la Mediateca del Mediterraneo, nel quartiere di Stampace Basso del Capoluogo, anche se l'operatività con i corsi potrebbero tenersi anche in sedi staccate. L'idea nasce dalla Commissione Cultura, che l'ha proposta con grande soddisfazione. L'idea nella sostanza è quella di istituire una scuola civica di storia, appunto il termine evocativo, che contribuisca alla ricostruzione della storia e della memoria di una comunità. Quindi ciò significa non solo fare la grande storia, quella fatta di battaglie, di trattati, che hanno visto la città comunque protagonisti, anche questo c'è, però soprattutto la storia di una comunità, che vuol dire esempio la storia delle sue imprese, la storia dei commercianti, la storia di Lizia, ecco ogni palazzo dietro c'è una sua storia, c'è spesso la storia di una famiglia che attraverso il palazzo ha voluto evidenziare la sua ascesa sociale, c'è la storia di un'impresa talvolta, c'è diciamo tutta la storia della comunità, conoscere ad esempio la storia delle imprese, ma anche la storia degli artisti, degli artigiani, dei pittori, dei musicisti che la città ha avuto e non ultimo per esempio la storia dei bagni di Mare a Cagliari, quando inizia chi la promuove, la promuove Don Michele Carboni, che era un nobile, un grande personaggio della metà dell'Ottocento che nel 1862 appunto nella Darsena, nella riva di Sant'Agostino, crea il primo stabilimento in mare, si chiamava Saber di Gedda, che i cagliaritani sanno che significa la Pietruzza, che era indicativo del tipo di arenile che si trovava là, ma c'è per esempio anche tutta da rifare la storia delle confraternite che ancora oggi sono presenti, dei gremi, anche la storia delle parrocchie, voglio dire che è una storia molto importante, oppure il sentimento religioso a Cagliari, i santi che sono venerati in questa città, in particolare Sant'Efiso, San Saturnino, la Vergine di Bonaria, come si afferma nella città questo culto, così come per esempio vedere la storia dell'istituzione culturale a Cagliari, quando, come, perché nasce l'università, e non ultimo esempio la storia delle sue istituzioni rappresentative. Cagliari è stata la sede degli stamenti, cioè gli antichi parlamenti del Regno di Sardegna, in questa città si riunivano e prendevano le decisioni, decisioni che poi interessavano tutta la Sardegna, ed erano tre rami, tre bracci, come si diceva stamentos vuol dire braccio, proprio bracci, erano lo stamento militare formato da nobili e feudatari, lo stamento ecclesiastico formato da vescovi, arcivescovi, prelati, e poi lo stamento reggio che era quello al quale appartenevano, i rappresentanti delle città non infeudate. Insomma, una storia ricca. Cagliari è stata protagonista, per esempio, anche vedere la storia dei suoi piani urbanistici, per esempio la storia del verde pubblico a Cagliari, la storia degli artigiani, insomma, sono tante vicende che contribuiscono alla formazione di una comunità. L'idea nasce dalla Commissione Cultura, che l'ha proposta con grande soddisfazione. Rimaniamo sulla storia, naturalmente, però, quella di Italia, che va in scena a teatro con lo spettacolo interpretato da Andrea Pennacchi. Stiamo parlando di Poiana. Vediamo. C'è la Sardegna, come tappa di un tour teatrale, ma anche, volendo, come sentimento del racconto. E c'è il mito della Padania, già la Padania. C'è il fiume Po e i suoi affluenti, e poi il mare, il nostro. Il nord-est e l'isola, indagini e origini delle trasformazioni di fine Novecento. Industria e lavoratori, lavoratori e industria, provinciali e isolani. Fai soldi e provi da arricchito, e non da signore, a migrare a Roma, da una parte e dall'altra. C'è chi lascia la Sardegna, lo fa perché è necessario, obbligatorio, perché non c'è lavoro. Ci sono similitudini, seppur lontane. Nello spettacolo di Andrea Pennacchi, Poiana e i suoi fratelli. Un mondo immaginario, che io chiamo Poianistan, che è incentrato principalmente nella mia esperienza nella zona del nord-est, però in realtà sbuca fuori dappertutto, quando meno te lo aspetti. Dico sempre che il Poianistan confina con tutto, quindi nessuno è al sicuro. Un mondo al contrario, potremmo definirlo, quello disegnato e diretto dall'attore. Una moderna civiltà consumistica, il miraggio della ricchezza, il desiderio del successo a tutti i costi, con l'ostentazione degli opportuni status symbol che prevalgono sul sentimento di solidarietà e fratellanza. La straordinaria crescita economica del nord-est d'Italia, parzialmente fondata sull'evasione fiscale e sui contratti in nero, come forma di ribellione verso uno stato troppo esoso, anche a fronte della corruzione della classe politica e gli effetti perversi della crisi, che hanno favorito l'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto produttivo, rappresentano il contesto in cui nascono le vicende. Uno spaccato della realtà. Il teatro permette di filtrare queste cose, permette addirittura di riderci sopra, permette di trovare addirittura un insegnamento dentro queste storie, per cui si ride e poi si canta, come sentite che dietro di me ci sono i ragazzi che stanno facendo le prove, e poi si torna a casa con un piccolo seme di pensiero che uno si rielabora come vuole. Poiana nasce come personaggio shakespearano, io ho sempre amato molto Shakespeare in tutte le sue salse, e un giorno ho fatto, follia, un riadattamento mio personale in dialetto veneto delle Allegre Comari di Wincher, e uno dei personaggi delle Comari parlava già come Poiana, era Franco Ford, parlava delle ronde, parlava dei suoi fucili, parlava del fatto che odiava gli stranieri, e tantissime altre cose simili, praticamente parlava del suo capannone. E questo personaggio aveva tutta una fisicità teatrale che poi io ho usato per far Poiana. Io a Sardegna sono... non voglio fare quello che va in un posto e dice «Ah, io sono innamorato della Sardegna», ma sono innamorato della Sardegna. Anche perché l'ho conosciuta attraverso il Festival di Ierzo, che è un festival bellissimo, in un luogo meraviglioso, circondato di persone straordinarie. Insomma, di quella lista di cose belle da fare vedere in Sardegna, questo spettacolo ci sta tutto. Dopo Cagliari, oggi è la volta di Alghero e delle sue bellezze, a ospitare Erpoiana. La chiusura, invece, ad Arzachena. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie